Ciao a tutti, sono XteenMark, sono molto felice che voglio fare una parte del progetto diciamo Corromoto insieme a me nel brano Spirit Finder. In questo tutorial ti mostrerò come prepararti per registrare con quello che hai in casa. Bastano uno smartphone, le cuffie e un computer oppure un secondo smartphone. Ti guiderò durante il procedimento per effettuare la registrazione delle parti che canterai. Tutto sommato ci vorranno 12 minuti circa. Quando avrai finito potrai mandarmi i tuoi file audio a questo indirizzo email. L'ho scritto nel primo commento così sarà facile ritrovarlo più tardi. Se hai una domanda qualsiasi durante la registrazione scrivimi pure a questo indirizzo email. Sarò felice di aiutarti. Quindi la registrazione. Ci sono alcune cose di cui avrai bisogno. Prima cosa, uno spazio tranquillo certo. Seconda cosa, uno smartphone con un'app per registrare audio. Su iPhone l'app Memo Vocale va benissimo. Su Android puoi usare la funzione di registrazione vocale che si trova in Google Keep. Certo ci sono altre app che si possono usare ma non è necessario niente di più complesso di quello che ti ho già accennato. Terza cosa, avrai bisogno delle cuffie che saranno con esse a un computer oppure a un altro smartphone. Con queste potrai ascoltare la base mentre canti e registri. Le cuffie sono importanti perché impediscono a quello che ascolti di finire nella registrazione che stai facendo. Si possono controllare i livelli del volume cominciando a cantare tenendo lo smartphone a diverse distanze dalla bocca. Dovrai fare in modo che le parti più alte dell'onda sonora registrata arrivino quasi all'estremità dell'area in cui l'onda sonora viene visualizzata nell'app, senza mai superarla però. Va bene, cominciamo. Registreremo le voci che si sentono dietro la voce principale durante i ritornelli di Spirit Finder. Avremo bisogno di usare qualche trucco perché questo ritornello è pensato come un flusso costante di voce che dura per 28 secondi. Non ti chiederò di cantare per 28 secondi con un solo fiato. Canterai invece una nota alla volta. Dopo io metterò insieme tutto nell'ordine giusto. Sarà sempre la tua voce. Risulterà cantata alla perfezione per 28 secondi. Senterai tutte le note, una alla volta. Le note sono in ordine dalla più bassa alla più alta. Non preoccuparti per i toni che sono troppo bassi o troppo alti per te. Puoi saltarli senza problema. Va bene cantare solo i toni che funzionano bene con la tua estensione vocale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Sì, 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 sì. Grazie mille per aver partecipato a questo progetto. Non vedo l'ora di condividere il risultato finale con tutti voi. Ciao! Grazie a tutti.